il denaro un attimo, questa c'è la testa chiudiamo questo abbassa ancora un po' di più la voce mettiamo 60 55 un ultimo testo e arrivo un bacco eh devi aspettare il simballo è sempre più croccio non solo si vende per 4 denari ma gli piace anche prenderla gratis babbo di boh riba babba queste distrazione me ne tengono non così l'audio va bene non è troppo alto mi infilo subito è l'audio non viene però ti invallo di la verità preferi infilarmi tra le tue coperte non è ma perchè sta cazzo di mamma qua no questa mamma qua no questa mamma qua no non è non è che 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 registrare 60 fps ma che icebreaker è bellissimo ma come registrare di non fare i saluti no swag oppure manco per il cazzo no 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 ma non ma non so eh comincia? vai spesso si comincia oh si comincia tantissima ne ho capito qua se non si capisce non si capisce mi hai messo in normale? si che checca che cosa è troppo sempre roba vai ferma no pollo di merda ma questa cosa questo è ragazzi siete sicuri perchè ce l'avete tutti dietro wow eh ma lo dovete vivere va 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 è un problema mi dico di mano please copritemi dai li copro io ok forse va meglio a bel è salto non c'è per ma i z Oh, 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 oh Il fuoco! Dove sto passando? Mi sono fatto malissimo Raga dove è il negozio? Non lo so Ti sembra una barca questa? Il gozze Aiuto Gira un pollo Nieni qua che lo so che ti piace C'è il ciccione, vado ad uccidere il ciccione Dove è il ciccione? Ciccio Dai su Dai su Che cacchio è fatto? MK23 No, allora Granate Pistola Per ora va bene così Mi sono sbagliato a prendere già la demolitore Devo prenderla la terza Eh vabbè dai Eh ma perché io sono forte No, però non ho potuto prendere le M32 Tanto non ho potuto provare No max Sì Pio Il cielo No più Di Il cielo Ma vaffan Ma sia un pecca Devo entrare qua C'è solo la seconda nave Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Cosa è? Chi è che spara? Chi è che spara? Non so Vieni qua Vieni qua, vieni qua Che mira di merda Grazie Vieni qua Eh, meno qualcuno lasciamo però, eh E' palle No, adesso giocherà, secondo lui Ciccione, ciao ciccione Vieni qua 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 Ti lucii da dietro Vieni qua Invisibile Morte Vieni qua Guerre Quasi Vieni qua Vieni qua dove stai? opp! ah 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 dove stai? ah 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 ah, il negozio è qua sotto aia ma perché? yan�� quel negozio si rompi spiritualmente di piccolo? facendo le gamine peggili no è qua no è qua qua sotto ti inv independo no è qua decidete gli ultimi ultimi fermi che vi ricordo bastardi ma c'è ma la fatta apposta riavassare la cazzo l'ultimo scambio a me piacciono grossi a te no ma non brutta ma lo tocco c'è un anno un po' troppi soldi ma posibilità a mamma rai 3 0 il senso erano avanti compratore 32 se sei 0 di milione che cazzo compre la giornata uber power il mio non si vede una mazza ammazza che ammazza la cazzare poste di prima no ok che sono qua le amo le prendo io leo 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 Allora, è vera che era nato. Ehi, stai calmino, eh. Ehi, è questo. Era carico, eh. Voleva. Non d'avviginare, bastarda. Guarda che cacchio di sangue. Sì, vuole fare. Ove mori. Guarda come sbarionano. Guarda come sbarco. Guarda come sbarco, guarda come sbarco. Guarda come sbarco perché non è importante. Guarda, guarda come sbarco. Che era invisibile. Ah, è normale quattro vena vittate, litte, eh. Cosa? È normale quattro vena vittate. Di mappe. Credo un po' tutta. Ah, si può aprire. Eh, dottore? C'è una persona qua, da raccogliere, se ti vede quella. Oh, ma non sto mica giocando. Ah, non loggia. Guarda, grigio scuro, non lo raccogliere. Che cosa? Oh, occhio. Posso fornire tutto il necessario. Ah, faccio doppia pistola, no? Mi vengono la desertite. Questa. Senti. Sì. Doppia pistola. Mk. Balestra. No, aspetta l'M14. Aspetta l'M14. Ci vado il doppia pistola. Mi sento tanto la raccogliere. Ci sei? Sai che hai pensi? Sai che hai pensi? Sai che hai pensi? Andiamo. Sì. Eh, tripla, non ce la faccio a farlo. A meno che non l'attacco. Vedete? Mmm, birbantello. C'è... Non c'è la pompa qui, eh. Sì. Ehm. Sì. Non è che è pompa. Sì. Ecco. Io compro dietro. Dai, tu. Dai, tu. Dai. Eh, cosa state aspettando? No, lasciami quella a sinistra Ok, slow motion Ok, slow motion No, faccio più Ignorante Ricarico Buongiorno, buongiorno Chiamo San Francesco Non prendere qui Non prendere qui Ancora in vita muori stronzo Vai poi poi Eccano non stai Dove siete? Va va Eccolo Però dovete dirvi, i soldi non mi faccio Eh ma non mi riesco a toccare Bacca a chi Come non ho detto Niente Ok, la verità Ah, io ho un mondo Non sollevo 2.500 Prendete la finchia scena di Prendete la finchia scena Prendete la finchia scena Questa lavendo N14 Wee 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 Ah, andalo sopra Adesso arrivare Eccolo Ok, la verità Eccolo 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 Nooo Aspetta, nuovo caricatore Aspetta, sto caricando Sto invisibile Sto invisibile Nuovo caricatore Che, che cazzi giri fanno Aia Aspetta No vabbè. Ah, vabbè qua. No, vabbè. C'è l'èo l'èo, a c'è? No, vabbè qua. Vabbè qua. Eh dai. Eh dai. C'è un level action rifle qua, eh. Guardalo subito come viene. Non posso trasportare quest'arma. Butti via il pompone. Ma ancora vivo? Amore. Ahia. Ahia. Sono tutti morti. Bisogna usare la spesa. Boh. Sì. Bale. Ehm. Io vado, buon'ot' vato, buon'ot' vato, buon'ot' vato, buon'ot' vato. C'è un problema, c'è un problema, c'è un problema. Sì. Eh, ho capito bene. Sì, ho capito bene. Adio muori User disconnettato dal tuo canale No, c'è un'arma che la grado si fa Tu dai, non fare il tirchio Non cercate da non scopare 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 Sì, vabbè, però Puttana, troia, ma che sai che ho potuto esplodere? Chi? Eh, io no Guarda che c'era l'arma qui Spara corriando le sue cuciole Non ho ben capito, tu dai Oh Cosa, scusa? Eh, vabbè, 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 vabbè Ah, ti ho spavaggiato un patate caldo Ma che... Qualche volta vedi... Vedi che partono arti Guarda Dov'è l'idiota? Dov'è l'idiota? Eh, oh... Lo devo cambiare il tuo funcino Arrivò Guarda che fa arrivando Un gruppone Un gruppone Voglio la 12 Merda Spera due, ci sei qua Lo so Voglio la 12 Lo so Un gruppo cambio Tras Non so se ti andrà Lo so Ah, f**k! Non c'è pure in schifin, scoperta! Scoperta! Corriamo! Corriamo! Butati giù dal coda! Dai, corri Forrest! Corri! Devi avere 400% di vita, sennò... ...metto gli 70, era caduto. Oh cavolo! Per un pelo! Eh, togli 70! Allora... Per... Non ti muovere! Pagliaccio! Fatto? Salta, salta! Così! WIIIIIIIIIIIIIII Cazzo, 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 cazzo! WIIIIIII Sono ucili, sapete cosa darne Dai, Timba, su, più veloce, dai, corri, dai, dimagrisci un po' Pulone Una seconda pistola Un po' Questo sballonzolare mi sta facendo venire baldomato C'è un'altra pistola qui Alla Malo, malo, malo Malo Menomal Malo Mamma Malo 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 cominciamo ad andare ad altra idea ormai c'è 40 anni non c'è aversi neanche taglia di amnesia lui sì io no il figlio è più vecchio no è vero solo che tra un po' non c'erano più teenager non ti muovi fantastici a che servono 1400 cento posto dopo pesanti c'è una patata per 70.000 per prenderla patata è vero c'è un obiettivo da fare bisogna giocare a facile e fare solamente tanti soldi e dare più io non ho pure la copra che farò c'è mi sa che abbiamo sbagliato a strada ehm io si ok corri ciao ciao signore oh cazzo ok ho leggero un fucilone piccolino ma cazzo 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 mamma mamma mia un cazzo 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 che non 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 fermo, fermo, fermo arrivo nell'invisibile beh a sinistra aspetta, ciccione, mio ecco, ho tolto il gusto, ah no, è ancora là oh cazzo pure mio no, mi è rubato, vale, è caduto è caduto no, veloce, veloce sto ricaricando fermo, quello è mio, fermo, quello è mio non lo ho preso, IG che avrò mancato eh dai non lo è il capo oh riusciva a prendere no, no, non ucciderlo ma è tanto il qualco ma lascialo vivere ancora un po' no no, no, raga dove cazzo è andato dottore 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 anche il Kevlar anche il Kevlar andate non mi stand-by dottore 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 e quattro qua sotto qua sotto qua sotto Oh, si. Stai fermo, magari. Pollaccio, maledetto. Esagerato. Un nuovo caricatore. Una invisibilità. Oh, 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 oh. D'agresiva. Qu'è rifless? Una altra. Ciccione. Morta. Eh, tu sei mio. Eh, dai, su. Il testo ti ho preso, no? Oh, oh. Oh, là. Mi dico, non ho capito il vero. No. Mi curo subito, figliolo. One shot. Non ho capito. Che cosa? Che c'è quel dico. Eh, non lo puoi capire. Quando giocheremo a CS te lo farò vedere. Vai, c'è il tuo che ci muove, dai. Nuovi. Tutti i vecchi di te. Vabbè, sono un vecchio pedofilo. Eh, cosa vuoi da me? Ci provi con me che sono ancora... Percire al piccolo. Eh, ma guarda, ragazzi. Ecco come si passa. Ho 50 HP in meno. Eh, neanche. Aspetta, non ne avrò ancora di meno. Ho 93 HP. Aspetta, non avrò ancora di meno. Ah, no. Meglio, più soldi per me. Ammo. Eh, hai i soldi, hai tanti i soldi? Sì. Sì. Eh, dovrei caricare il fucile. E' un'altra cosa. Aspetta. No, 5.000 mi serve. Quanto? 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 Quanto non? Quanto non le vol mandar, senza il suo 엿 Oh, corre troppo però Aia Mamma mia Madonna Ma perché le fai a me? Un'altra giù Oh, c'è una sirena qua Non c'è un skrack Que buona l'ajata la granata Grazie. Il mio. Il nostro carico giù. Qua. Il nostro carico giù. 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 giù sono sceso qualche po' melman giro panoramico 4 ecco a un'altra persona ragazzi, sfruttate l'occasione! Lui è il M79 peccato tesoro ma non puoi portare tutta quella roba ehi come stia offese datemi tutti i soldi che avete forse vi servono a me, aspetta un attimo via 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 oddio via via prendo il lanciamissile questa è un'arma vera c'è solo questo non c'ho altre armi quindi dovete coprirmi eh solo il lanciamissile perchè non c'ho sforzo per altre armi non c'erano altri soldi? eh ormai cioè io ho 3 secondi non c'è solo ho 22 missi non ho preparato qua vicino mi sa ma chi è questo? non c'è non c'è non c'è non c'è mia un pennello dai dove sei? strunzi attra è sono in non c'è sta mentre con con mi si vede ecco lo so trafugina di materiale no se lo andan Ah ma dov'è? Non so è stato bello conoscerti Il problema è che se non si fa vedere Non c'ho più di fogliettili Non c'ho pensato io a sistemarlo Ho finito il progetto Guarda quello che spastico Madonna potrei farvelo un'altra? Più difficile E' ma facciamo West Long E' ma facciamo West Long